Massiccia operazione dei carabinieri nel Napoletano, due ragazzi manette, sequestro di armi, di droga e denaro e il bilancio del blitz del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna. Durante perquisizioni nel quartiere di Ponte Citra sono stati rinvenuti una pistola a calibro 25 e 100 grammi di cocaina. A Castello di Cisterna invece sono stati arrestati due pusher che erano nella piazza di spaccio con grandi quantità di sostanze stupefacenti quali cocaina, crack, hashish e marijuana. I due di 21 e 33 anni sono stati condotti in carcere. Controlli e perquisizioni sono stati effettuati anche a Secondigliano dove in una cassetta postale di via Giardino dei Ciliegi sono stati trovati oltre due chili di droga e un'arma. Ad attirare l'attenzione dei militari è stato il forte odore che ha permesso di recuperare 18 panetti di hashish di un chili e 800 grammi, 225 grammi di cocaina suddivise in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una pistola calibro 38 con tre proiettili. Infine un arresto si registra anche a Caivano dove un ragazzo di 29 anni già noto alle forze dell'ordine è stato trovato in possesso di 273 grammi di cocaina e di 707 grammi di crack. I carabinieri hanno dapprima seguito l'uomo e poi perquisito. Nella sua abitazione sono stati trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato tradotto in carcere in attesa di giudizio. Grazie a tutti.